Oh sì, ci sono delle erbe che la Matilde la fa un unguento e di poi si spalma e si vede tante forme strane e con un altro cura, l'è troppo agitato e quando si spalma diventa tutto calmo. Una volta l'ha sbagliata e l'ha dato l'unguento d'Estramon a una figliola che batteva di notte, faceva sogni strani. Con l'unguento l'è diventata come me! Lo vedete, signor inquisitore? E voi altri, signor vicario? Sì, mi son felice anche se c'ho le catene all'ipolsi, son felice perché dico tutto quel che voglio! No, voglio, sono tristancante. Quel terreno deve essere sottratto, è evidente. Perché l'amica è il vostro, se c'haro! Voi altri non volete quel terreno, vero, signor modestà? Lo volete perché l'è vicino allo vostro e vi tira la gola! Fa la scuola in vita! No! È impossibile sopportare la traccotanza! Assolutare la traccotta!